Per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva sono stati assegnati 19 frequentatori del 92esimo corso a Levi Marescialli, che si svolge presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila, che per le prossime settimane opereranno al fianco delle fiamme gialle dei reparti del Comando Provinciale di Cosenza per rinforzare il presidio di legalità e di sicurezza assicurato nel territorio, con particolare attenzione per le località dove si registra una maggiore affluenza turistica. I rinforzi destinati ai reparti distribuiti sul territorio provinciale saranno impiegati quotidianamente in affiancamento agli altri militari già impegnati nel contrasto all'abusivismo commerciale, al commercio di prodotti contraffatti e ogni altra forma di traffico illecito, oltre a contribuire alle attività di mantenimento della sicurezza pubblica. Gli allievi marescialli sono stati ricevuti dal colonnello Giuseppe Dell'Anna, comandante provinciale, che ha rivolto un saluto di benvenuto ai giovani futuri ispettori del Corpo, esortandoli a fare tesoro dell'esperienza che acquisiranno durante il tirocinio pratico, che gli consentirà, una volta immessi in servizio presso i reparti del Corpo, di poter svolgere in modo professionale i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza.